E' un bel trabocchetto perché in realtà sono dette tante cose, tutte finte, tutte messe giù. Però sono abituato, riesco a sorridere nonostante questo che si chiama mobbing teoricamente, cioè significa dire, mettere in difficoltà la persona. Non è assolutamente vero che io ho dichiarato di essere, accettare la candidatura a Milano e poi dopo mi sono ritirato. Non è così. No! Non è così che quindi Sgarbi, vedete il collegamento, quindi Sgarbi lo collega in un paese più piccolo dove anche lì... però è tutto completamente falso, fasullo, tutto. E poi accompagnato alle foto brutte... Le candidature? No, non va bene così. Sono notizie che non sono la realtà. La realtà è che io non sono un politico, non sono un politico ma sono influente perché quello che penso, che dico ha un senso, così come quello che sto dicendo adesso, spero, mi auguro. Quindi, cioè, dipingermi come qualcosa che io non sono è scorretto. Qual è la cosa che mi piace? Allora, questa scorrettissima dice, San Giuliano ha messo al posto suo Beatrice. Ma no, ma chi l'ha detto che San Giuliano doveva mettere me? Ma chi l'ha detto? Nessuno. Nessuno ha detto che doveva mettere me. No, e soprattutto io mica ho detto a Beatrice che ho pianto, era una battuta. Ma cosa facciamo? Non sappiamo cos'è una metafora. Cioè la prossima volta che io dico, non lo so, farina del mio sacco, cosa devono dire? Ha portato un sacchetto con dentro del pane, cioè la farina del mio sacco è una metafora. Però tu sei uno dei personaggi che piace di più, sai perché? Perché se dovessi aver pianto, come è capitato a me di piangere per frustrazione, non ti vesti. Senti, allora... Ho pianto e poi ho fatto i complimenti perché lei merita, no? E parliamo di merito. Ma sì, ma è ovvio che è così. Però è seccante. È seccante arrivare in un luogo dove c'è il trabocchetto. Ma qual è il trabocchetto? Il trabocchetto è, come dire... Qua non c'è nessun trabocchetto. Ma sì, perché vedi come ero simpatico prima e come sono di malumore adesso? Lo vedi, lo vedi anche tu. Lo vedi? Lo stai vedendo? Ma tanto dici sempre cose intelligenti, è l'unica cosa che mi interessa. Certo, allora cosa fai? Ma dici anche uno sciame di api che mi pizzica, tanto sono sempre interessante io, no? Allora fai così, buttami anche un gavettone, tanto sono sempre elegante. Ma scusami. Fai così, mandami in concerto senza i cavi, tanto sono bravo. Qual è che non ti è piaciuto? Anarchico, di la verità. Ma no, anche quell'altra cazzata che avete scritto, scusami, che io non voto, io non ho mai detto né che voto né che non voto la Meloni. Sono tutte dichiarazioni che abbiamo trovato? Sono tutte dichiarazioni di giornalisti che hanno dichiarato il falso e voi, senza documentarvi, avete fatto un servizio tutto basato su notizie negative. Non ce n'era una a favore. All'inizio diceva, sì è un cantautore, un cantante, un poeta, però, allora candidato a Milano, lui prima accetta, poi smentisce. Come se io fossi uno che dall'oggi al domani cambia idea, non sei pazzi. Mi vogliono dipingere come... Uno ci riflette e dice, forse non mi interessa la cosa. Sì, una volta può capitare, ma io non è che tutta la mia vita, come avete fatto vedere voi, è fatta di pazzie. La mia vita è la vita di una persona normale, intelligente e non di un pazzo. La tua vita artistica è fatta di grandi cose. No, beh, allora dinne una almeno, dinne una. Ma come? Dimmene una, sei tu che lo dici. Ma come ti ho annunciato come il più grande scopritore di talenti di questa generazione, come un poeta, una tua capacità di portare la canzone altrove, farne cultura. Io preferirei che invece tu mi dicessi, guarda, non mi piace come artista, allora sarebbe giustificato il tuo filmato. Perché invece è incoerente il fatto che tu dica grande artista e poi mi presenti come fosse un matto. Ma perché è un matto? Ma perché quello lì è un deficiente. Perché un anarchico non è un matto? No, 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 quello lì è un deficiente e soprattutto sai cosa? Non sono io. Cioè a me dispiace ma non sono io. Ma gli intellettuali come sono? A te interessa sapere chi sono io. Gli intellettuali sono dei gran rompiscatole, perché in realtà non si fanno prendere in giro così facilmente. Cioè gli intellettuali, poi io non so chi sono gli intellettuali, sono tutti, tutti sono intellettuali, anche tu, le persone che lavorano in questa trasmissione sono tutti intellettuali perché usano la testa. Ah. Quindi chiunque usi la testa, è un intellettuale, soltanto non so, non c'è una persona. La tua testa è piena di tante cose, anche come tutte le persone. Belle però, allora se tu hai un quarto d'ora a disposizione per parlare di me, io mi auguro. No, io vorrei avere un quarto d'ora a disposizione con te per parlare di quello che stai a studiare. Sì, ma non dopo che mi hai fatto il coccodrillo. Non ho fatto il coccodrillo. Ma sì, ma si chiama, quello lì è una brutta, è un brutto servizio su una persona che tu non stimi, perché se tu devi raccontare così un personaggio non lo stimi, non lo stimi, perché quei non hai detto le belle cose, poi hai pensato un pezzo dal vivo, le brutte intenzioni, ma pensa, ma non ce n'era un altro da passare, non avevi un'altra canzone, proprio le brutte intenzioni, la maleducazione, quella lì. Ma come mai? Ma Marco, tutto quello che di te possiamo raccontare qua, lo stiamo perdendo. Ma io non lo so. Ti penso per dire cose che sono legate a una tua percezione di un personaggio. Ancora più folle, quindi non solo il servizio è bello, è che io adesso sono un allucinato perché dico che il servizio non va bene. Ma io ho detto che sei allucinato. La mia percezione, hai detto, non è una mia percezione, è la realtà che io devo difendermi da persone che mi diffamano. Nella vita io faccio il lavoro del cantante e in più faccio anche quello che si difende dai difamatori. Perché se tu devi costruire un servizio su Morgan e lo fai così ti perdi un'occasione. È bellissimo dire quello che ho fatto. Allora parliamo di quello che ho fatto. È bellissimo. La prossima volta però per favore non parlare delle cose brutte, parla di quelle belle. Ma io parlo di tutto con te, non delle cose brutte. Non pensavo, la candidatura a Milano viene data ad una persona che viene stimata da persone che possono proporre una candidatura a sindaco di una città enorme. E allora di questo, non dire quell'altra cosa che hai detto invece che hai detto che è stato proposto però poi ha cambiato subito idea. Poi invece allora quello che l'ha proposto nel comune più piccolo però anche lì gli è andata male. Poi allora gli è andata male nel comune piccolo e il ministro San Giuliano non gli ha dato la carica, il ministro San Giuliano perché l'ha data un altro e lui cosa ha fatto? Ha pianto. E poi dopo cosa è successo? Che è andato a Sanremo e l'hanno squalificato perché ha fatto le brutte intenzioni, la maleducazione. E questo qui sarebbe un genio. Oh, coglione questo qua. Scusami eh, uno che fa quelle robe è un coglione. Gli uomini che piangono non c'è niente di strano. Anche secondo me, gli uomini che... The man cries, è bellissimo. L'uomo che piange è bello. Però, una volta, non è che puoi dire che... Sai cosa faccio? Questa te la rimando a casa, tu te la riguardi. Ma non va, per fregola, ma sai che... Oggi sono uscite 31 interviste. Come il tuo servizio. Perché capisci che la gente si divide in due. Chi parla di me normalmente e chi invece spara le puttanate, ti ho visto adesso. Il mondo si divide in due. Va bene. Così. Abbiamo idee diverse rispetto a che cosa dipinge male una persona. Se tu vuoi raccontare Morgan, non va bene quello lì. Ma io lo racconto in mille modi diversi. Questo è una clip di un minuto. E ti racconta nella parte politica. Te lo giochi così male il minuto, a tal punto che mi fai incazzare. Ma scusami, ma la psicologia ha un senso. Se io faccio le boccacce a una persona, la persona reagisce. O se gli do uno schiaffo, reagisce. Non è che dici, sei violento, o sto reagendo al tuo attacco. Ascolta. Io non voglio essere descritto così. Io non voglio. Se io l'avessi visto prima, quella roba, ti avrei detto, non vai in onda. Non vai in onda. Però non puoi decidere tu cosa vai in onda. Ah no? No. Allora, prossima volta faccio io un servizio su di te e vediamo se sei contenta. Secondo me di te non è mai uscito niente che dicesse qualcosa di veramente paragonabile a questa roba. Voi non avete idea di cosa significa da 15 anni avere fastidio. perché questo è fastidio. Tant'è vero che poi si costruisce talmente tutta questa montagna di puttanate che la gente è convinta che io sia quello. Ma provami un insulto rispetto a quello che c'è stato e io ti chiedo scusa. Ora. Ok? Se tu mi troverai con calma quando rivedrai la carica... Il fatto che a me aspettasse una carica che è stata data a un'altra persona. No, eri in ballottaggio con un'altra persona. No, no, no. Io sono un influencer politico e ascoltano quello che io dico non perché io ho una carica, perché io dico cose che a loro interessano. Ci fermiamo. Che è una cosa diversa, eh? Allora, possiamo andare a vedere adesso invece il tuo giudizio, la cosa per la quale io l'ho chiamato qua. Vediamolo. Per adesso il mio giudizio su di me è negativo. Cioè io quello lì a me non piace. Lo disconosci. Quello lì non mi piace. Vediamo il tuo giudizio su di lei. Io sono Giorgia! Sono una donna! Sono una madre! Sono italiana! Sono cristiana! Non me lo toglierete! Non mi toglierete il fatto di essere una madre, di essere cristiana e di essere una donna. Io non l'avevo mai visto, sai? Non l'avevi mai visto? No, non l'avevo mai visto. Tutti mi hanno parlato di questo discorso che è passato alla storia, pare. Sì, cioè, è creata un'identità. Sai che cosa? Io la trovo convincente lei perché capisci sempre quello che dice. E poi non ha paura a dimostrarsi, a farsi vedere in un momento, come diciamo, di ira, di collera, forse, non so, o di vis, perché in realtà non è collera veramente, è una persona che è in scena in quel momento, dobbiamo capire che è in scena. E quando si è in scena, adesso voi direte, oh, Morgan si è arrabbiato. No, è un registro, come dire, di rappresentazione. Quindi siamo in scena, ci sono le telecamere, sono il primo a sapere che ci sono gli italiani che ci ascoltano. Se agiscono in un determinato modo è perché è un racconto, no? Ecco, lei qui ha fatto un racconto. Io apprezzo tutte le verità che escono. Lei ha detto un racconto, e questo racconto è piaciuto. Ha detto parole chiave, vediamo quali sono le parole chiave. Io sono una donna, sono una madre, poi sono una cristiana. Cioè, hai fatto centro, perché hai detto il padre, il figlio e il spirito santo. Tutto. Quindi ti piace, voto? Voto di che? Voto a lei? Dieci. Alla Presidente o il Presidente Giorgio Amici? Dieci. Dieci. Cioè, da uno a dieci? Dieci. Ti faccio vedere un altro. I rave non si sono fermati da trent'anni e non si fermeranno. In tutto il mondo. È un fenomeno che esiste, un fenomeno culturale. Una società che non sia morta del tutto deve esercitare, verso questi fenomeni, apertura e tolleranza. Perché l'alternativa si chiama stato di polizia. O peggio ancora, totalitarismo. Allora, lo conosco. È stato con noi Cosmo. Sì, lo conosco bene, però non l'ho riconosciuto. È un professore, è un musicista, è un laureato che insegna. Ecco, è un professore. È un professore. È un laureato che insegna. Tu non sei grato ai tuoi professori. Moltissimo. Però in realtà ti devo anche dire una cosa. Improvvisamente mi ha fatto strano. Dico, ma da quando Cosmo fa queste cose qua? È venuto qua a parlarci di rave e di cosa pensa lui dei rave. Mi sembrava un discorso alla nazione. Madonna. Era un TED. Cioè, un racconto della propria idea direttamente in camera. Allora, perché non lo dice normalmente anche nei messaggi Whatsapp? Deve aspettare di andare davanti alle telecamere a dire il suo pensiero. Magari lo dice anche in privato. Ma io lo conosco, lui non ha mai parlato in questo modo. Senti, tu che cosa pensi? Perché lui dice che è un momento di liberazione, di libertà culturale. Sai quante volte gli ho chiesto un'opinione a questo ragazzo che mai una volta si è sprecato? Perché sai, lui magari, Morgan è vecchio. Ma vi conoscete? Ma certo. Perché si conosceva, mi è pure simpatico e mi piace pure. Non sono mai riuscito a coinvolgerlo in un pensiero a proposito di nulla. Perché lui non mi caga. Cioè nel senso, numero di telefono, Cosmo, cosa ne pensi? Possiamo fare strano? No, capito? Sai quelli che dicono, ho la tournée, ho il disco nuovo. Ah, va bene, ok. Però poi dopo che viene qui a fare quello che gli interessa al sociale mi sembra un po' strano. Ma questo si ne abbassa il suo voto? No, io gli do 11 anche, perché è una performance improvvisamente diventato un comunicatore. A De Rave tu che cosa pensi? Cioè uno muto che diventa un comunicatore. Tu cosa pensi del Rave? Che poi però in realtà fa il professore. Quindi devo immaginare che ha una terza personalità quando va a scuola dai bambini. E lì è diverso ancora. Quindi questo qui è un po' psycho, perché nel senso, cioè personalità diverse. Il fatto che non risponda ai tuoi messaggi non lo rende psycho. No, non lo rende psycho, però lo rende un po' strano. A noi è piaciuto molto. Anche a me piace molto. E l'ho stimato molto. Pure come musicista, tra l'altro. Oh, va bene. Tranne discorso dei calabiritti. Ma il voto non era per lui, ma per i rave. Ma andiamo avanti. I rave cosa sono i rave? Tu li hai mai visti i rave? Io non sono mai stata un rave. Eh, allora, ne parliamo. Io gli ho fatti i rave, li faccio sempre i rave. E come li trovi? Vivono un rave. Allora, la mia casa, ti riscrivo, è come un rave. Cioè, quindi praticamente spazzatura. Quindi è un luogo di libertà? O è un luogo di spazzatura? Sì, io sono un luogo di libertà. Io sono un luogo di libertà. Il rave, il primo problema del rave è che si sente male. Cioè, se partiamo dalla musica e senti male, di cosa stiamo parlando? Su un luogo che ti respinge automaticamente, perché si sente da cani. Ecco perché ti dice che sei vecchio, Cosmo. No, perché se tu il rave lo fai fare in luoghi che non sono dei luoghi ottimali, ma sono delle seconde scelte, perché c'è tutto il problema da girare, la polizia e le leggi e le cose, per cui sono clandestini. Allora, capisci che bisognerà ben invece dargli la libertà di fare le cose. La libertà di fare le cose, perché il rave non è altro che un concerto di musica elettronica. E quindi non è che è più importante o meno di un concerto di musica classica, non è il raduno dei motociclisti. Il rave è un concerto che poi le modalità di fruizione sono diverse. Quindi voto alla legge anti-rave? La legge anti-rave è blanda in realtà. L'avresti fatta più dura? L'avrei fatta che almeno dice di cosa parla. Cioè, più che più dura. È vaga. È una legge che va bene, sai, poi bisogna applicarla o non applicarla. È una legge troppo che... Allora, NC, come si fa a scuola? NC non classificabile. Ascolta. NCC invece è l'autista. È l'autista. Andiamo invece all'opposizione. Chi è? No, perché l'opposizione una volta era la Meloni. Attenzione. Adesso no. Sapete perché io mi sono avvicinato alla Meloni? Perché ho chiesto ai miei followers di Instagram, ma chi è l'opposizione? E tutti risposto, non c'è. Non c'è lo Stato, non c'è l'opposizione, dittatura. Chi c'era il governo ai sinistri? Invece c'era lei. No, no, c'erano i sinistri al governo. C'era Conte. No, dico, all'opposizione c'era lei. Lei al limite era l'opposizione. Infatti, adesso chi c'è l'opposizione? Eh, adesso te lo faccio vedere. C'è l'opposizione? Vai. Esiste? Sì. E chi è? No! Vediamo uno di noi gli occhi di tigre, perché sarà da come gli italiani ci vedranno in azione che le nostre idee, le nostre valutazioni, le nostre proposte diventeranno vincenti oppure no. Quello che si chiama carisma. Non ti piace, eh, Enrico Letto? A me piace, come uomo mi piace ovviamente, è un bell'uomo, però non... Non professore? Sarà bravo, io non l'ho mai assistito a una sua... Lezione. Le sue lezioni mi piacerebbe perché sicuramente venendo la famiglia Letta, poi che è una famiglia di grandi intellettuali, lo zio, sì, ma lì le famiglie sono una cosa importante a quei livelli, per cui... Cosa stai dicendo? Lo zio, nipote, tutti politici, professori intellettuali. Letta, tra l'altro, viene dalla lettura, voce del verbo leggere, per cui persone di grande intelletto. Nell'intelletto c'è il letto, nella cultura c'è il... Ma questa opposizione rappresentata in questo momento dal PD, Secondo me, Letta è un po'... Forse posso dirlo? Debole. Debole. No, nel senso che non è che è proprio uno che ti convince, cioè non ha proprio una forza... Il leader, oh, questo è un leader. Quindi non lo ritieni. Allora, no, è un leader di cosa? Di un partito il cui leader è così. Cioè, è lì che si tratta di mandarsi. Cioè, quindi va bene per loro. Se va bene quello... Che partito è? Cioè, se un partito deve avere un leader che è così, perché è perfetto per fare il leader, e dietro c'è il partito che gli corrisponde, eh? Aiuto. Che partito è? Un partito che ha un leader così. È strano. È stranissimo. Perché in Tremioli dovrebbe dire... Quindi si fa parte di quell'esercito di delusi dalla sinistra e prima... No, lui dovrebbe venire da Berlinguer. Lui dovrebbe venire da quella gente lì, da quel periodo lì. Lui addirittura dovrebbe essere... Dovrebbe venire da Aldo Moro, dovrebbe venire da una politica che era una politica di grandi idee, prima di tutto, di grandi parole, di grandi... Prendi un messaggio qualsiasi di Craxi, che è il politico più contestato di quegli anni, socialista, quindi sinistra, prendi un messaggio qualunque di Craxi e dici wow, è Dio. No, non è Dio, è Craxi, che gli hanno dato addosso tutti. Ma a confronto a questi è Dio. Quindi senti che non c'è più quella leadership naturale, del leader carismatico in Enrico Letta. Non c'è più quell'urgenza, quella voglia di fare le cose per la gente. Chi è la gente? Io ho mai sentito dire una parola chiave tipo la gente. Lui che dice la parola alla gente, non c'è tipo va in palla se dice la gente, perché tipo si spegne. Non si può più dire popolo. Si può dire tutto quello che si vuole, basta sapere quel che si dice. Il popolo si può dire, infatti da popolo viene la parola pop, che è meravigliosa, la parola pop. I Beatles, musica pop, popolare, folk, popolo, la stessa radice, folk, popolo. Voto a letta? Voto a letto, guarda, preferisco votare a letto. Ti astieni. Prossima clip, vediamo. Sono incredibile d'astinenza. Mi dite cosa vi ho fatto. E da una vita che sono lottando per i diritti, per le persone. Voi mi volete morto. Ho sempre lottato, lottato. Questo è un deputato della Repubblica Italiana, si chiama Samauro, e è stato, è un rappresentante della sinistra italiana che è stato coinvolto in uno scandalo. Con chi è incazzato lì? O meglio, la sua famiglia è stata coinvolta in uno scandalo e adesso si è autosospeso. Con chi ce l'ha lui? Con le persone. Sistema. Pensavo che fosse un caso che tu avevi conosciuto. Io no, però l'ho capito subito. Adesso si è autosospeso perché la sua famiglia, sua moglie e sua socia sono finiti in uno scandalo legato proprio alle persone che lui ha sempre difese, per le quali si è battuto, e per le quali è arrivato in Parlamento. Molto probabilmente c'è da prendere le sue difese, sicuramente. C'è da prendere le sue difese, ma proprio senza dubbio. Senza dubbio perché qui siamo in un problema di umanità molto pesante, di un problema di strumentalizzazione pesantissimo e di mobbing. Per cui, attenzione, stiamo parlando di una persona che subisce il mobbing. Se deve arrivare a piangere davanti alle telecamere, ad essere così disperato, la parola giusta è disperato, quando un essere umano è disperato, dobbiamo guardare cosa c'è intorno, non lui. Lui è disperato e l'abbiamo capito. Ebbene, adesso voglio capire. Sì, le cose che erano successe intorno a lui. Cosa sono successe intorno a lui? Se io potessi avere... Alla sua famiglia non lui direttamente, poi si capirà e si chiariranno le cose. Io dico che questo uomo mi ha messo i brividi, mi ha toccato, e se è un parlamentare... Questa posa è bella, tra l'altro, è una cosa che Enrico Letta neanche se va a lezione per vent'anni riesce a fare. Cioè, questa cosa qua, così, sembra una statua. Vedremo che cosa succede, e capiremo meglio che cosa succede alla sua famiglia. Soprattutto cosa succede dopo che sentono quelle cose che ho detto io stasera. Va bene. Allora, ti porto sulla musica. No, comunque, come si chiama lui? Sumo oro. Spero di incontrarlo prima o poi, nella mia vita breve politica. Sumo oro, segna bene. Sumo oro? Sì. Va bene. Ti porto sulla tua musica. Io, purtroppo, non so niente io. Io non so niente. Sapete perché? È una cosa strana. Voi potreste dire, Ma allora, ma cosa vuoi? Ti occupi di politica? Io non mi occupo di politica. Cioè, io sono chiamato, a domanda io rispondo. Poglio una cosa sicuramente ti occupi. A domanda io rispondo. Neutro di Garnier. Scusate, ho fatto la pubblicità. No, ma adesso ti porto proprio sul tuo campo. Io, sì, sul mio campo, la politica è interessante, ma a me piace fare quello che sono capace di fare. Quindi, la musica. La cultura... Ma io ho pensato tantissimo il fatto che tu avevi detto, non voglio sapere niente di quello che mi chiederai, preferisco andare a Boccio. Io ho adorato questa tua cosa. Io non l'ascolto, per esempio. Quando alcune cose le conosci meglio, alcune peggio. Queste le conosci benissimo. Musica? Foto? Prima foto. Ti faccio giudicare tre generazioni. La prima, la prima, vedi, di là c'è Giovanotti. Giovanotti. Poi c'è Fedez, poi c'è Fedez, e in mezzo i Maneskin. Mi dai un giudizio su tutti? Partendo da Giovanotti? Allora, Giovanotti è un pseudo cantautore. Quindi, Giovanotti è un cantautore, lui pensa di essere un cantautore, e molte volte anche gli altri lo pensano. Più che altro è un intrattenitore da palco, è uno showman molto bravo. Però lui ha la pretesa di essere un cantautore. Questa cosa va bene. Però, ecco, bisogna capire che il mondo non ha tanto bisogno dei suoi dischi. Gli piacciono i suoi dischi al mondo, ma non dovrebbe pensare che devo fare un disco. Perché il problema di determinate persone è che si piazzano nei settori e occupano tutto e sembra che stiano lì solo loro. Sembra che ne escono troppi. Sono i re della foresta. Per cui, Giovanotti, ma stai sempre a fare dischi. Ma vai un attimo, stai tranquillo. Ma non gli riconosci una portata anche di sperimentazione, innovazione? No, tutto il tutto. Devo fare il disco, devo fare il disco, devo fare il disco. Ma stai calmo. Ma perché deve fare dischi ogni anno? Se continui a scelterire il disco di nuovo di Giovanotti, di nuovo di Giovanotti. Ma basta. Ma scusa. No, la gente piazza. Ma De Andrè, c'è un paio di dieci anni prima di fare il prossimo disco. E' un attimo, datti una calmata. Leggi un paio di libri, fai qualcosa, ascolta la musica degli altri. Cioè, fai qualcosa, fai al cinema. Non smetti di fare i dischi. Sempre i dischi, tutti in studio. Devo fare i dischi. Ma anche perché poi non è solo lui. Tutto l'entourage, no? Se ti sembra ipertrofica... Non posso fare il video perché sono impegnato a fare il video di Giovanotti, perché altrimenti sto facendo il video di Giovanotti. Se ti sembra ipertrofica la produzione di Giovanotti, adesso ti chiedo di sé... Ipertrofica. Io dico solo che è fantastica. Allora, diciamo delle cose belle. Ipertrofica nel senso che ne produce troppo. Perché ha fatto forse meno cose anche. Fede? Pensa che una volta abbiamo litigato, tra virgolette, no? Perché lui mi... Tu e Fede? Sì, mi trattava molto male perché mi diceva che ero vecchio. Però io ero anche più giovane. Cioè, all'epoca, dieci anni fa. E gli ho detto... E lui era infatti. No, sai cosa? Gli ho detto... Mi hanno detto che hai fatto un disco. E gli sei incazzato. Allora, si è alzato e ha chiamato gli amici e ha tentato di darmi un pugno. L'hanno tenuto fermo. E poi sono arrivati anche i suoi genitori che non so, è una scena convulsiva. Mi sono andato. Però erano arrivati alle mani. Perché io gli ho detto questa cosa. Gli ho detto... Senti, ma mi hanno detto che hai fatto un disco. E questa cosa l'ha ferito molto. Io non lo sapevo... Per il fatto che non gli riconoscessi una notorietà anche per occhi. Non lo sapevo che aveva fatto un disco. Ma Fede è il famoso frano. Senti, ora, ascoltami. Io non posso conoscere tutto. Conosco tutto il capicevolo ben temperato di Bach. Conosco tutte le sonate di Beethoven. Conosco... Non è il tuo genere, diciamo. No, no. Perché conosco anche tutti a memoria i dischi dei Beatles. Io so 5.000 canzoni a memoria e te le posso fare da adesso fino a quando le esaurisco. Per cui tra tre mesi sono ancora qua a suonare. Fede, no. Non posso sapere tutto. Scusa. Non posso sapere tutto. Lo ascolterai un disco di Fede adesso per saperne di più? Guarda, c'ho... Ho tre dischi dei Jefferson Airplane che mi stanno aspettando. Non so. Quindi lo metti in coda. Va bene. Andiamo sui Mineskin invece. Mineskin, che pensi? Sono vestiti molto bene, secondo me. perché avete qualcosa in contrario. Scusate, sono bravi a vestirsi bene. Quando un gruppo si... E basta. Il sound è bellissimo. Hanno vinto tutti i premi internazionali e ci hanno portato... Infatti, secondo me, dobbiamo fare una ricerca. Quali sono i premi che mancano? Così li direzioniamo. Io come Ministero potrei, per esempio, direzionarlo, direzionare, fare un'indagine con l'Osservatorio della Cultura e vedere quali sono i premi che mancano. Perché tu comunque come consulente anche senza carica del Ministero... Soprattutto senza carica perché tu immagina se mi danno la carica mi limitano. Sei più libero. Perché poi sono costretto a fare quella cosa e invece adesso io posso fare tutto. È bello, eh? Mi piace, mi piace la posizione. E comunque parliamo dei Mineskin perché... Scusa, rimaniamo... Io all'inizio li chiamavo Moleskin perché pensavo che era un gruppo che prendeva appunti. Poi, invece, mi hanno detto che... Insomma, dei tre non te ne piace uno. Sono prodotti da Manuel Agnelli? No, per far sapere. Mi tocca... Mi togli in preparata. Per sapere, perché lì possiamo aprire... No, non sono prodotti da Manuel Agnelli. No. Ma lì apriamo un'altra parte. Perché loro possono permettersi dei produttori di grido. Ti riporto ad un'opposizione che magari ti piace di più perché mi hai talmente... Insomma, sminuito un po' mi dispiace, guarda. La figura di Letta. Ah, no, pensavo che con l'atteggiamento iniziale... La figura di Letta... Ma che ti importa di Letta? No, adesso ti porto su quest'altro. Ti importa di Enrico Letta? Enrico Letto! Un'altra opposizione. La Presidente Meloni ha dichiarato che è una manovra coraggiosa nel segno della crescita della giustizia sociale. A bene esaminarla. Adesso che la stiamo esaminando possiamo già concludere che è una manovra V-H nel segno della decrescita e della profonda ingiustizia sociale. Beh, è un bell'uomo. È veramente un bell'uomo anche lui. Noto come l'avvocato del popolo. Sì, sì. È un gran bell'uomo. Qua si assomiglia a Brian Ferri qua, guarda. Ma io non ti chiedevo un giudizio estetico. Ti chiedo un giudizio politico. Io non posso prescindere dall'estetica. Sai, i fenomeni sono cose che appaiono alla vista, no? Fai numerai. Cioè, il fenomeno appare una cosa e quindi tu cosa fai? La fenomenologia studia i fenomeni, studia le cose, l'essere. Studia le apparizioni, quello che appare. A me appare alla vista, ai sensi. E quindi come ti appare? Mi appare una persona bella. Un gran bell'uomo che mi ricorda un cantante dei miei tempi che si chiama Brian Ferri. Allora, posto che mi sembra Brian Ferri, mi è già simpatico. Ferma, un minuto di pubblicità e poi torniamo e poi ti porto a salutare un tuo amico che inizia con la V e la seconda iniziale S. Rodolfo Valentino. Vittorio Sgarbi. Un minuto solo, un minuto di pubblicità. Ma viene Sgarbi adesso? Dopo di te. Comunque... Siamo in diretta? Sì, siamo rientrati in diretta. Ma io non volevo essere in diretta. Non volevi essere in diretta, volevi essere registrata. Io adoro solo le dirette. Anche io adoro le dirette perché in realtà mi... Senti, posso... Tiro la zappa sui piedi in diretta. Poi sono contenti i tuoi autori che poi la prossima volta faranno un clip veramente denigratorio al massimo. ma quando... non volevo essere in diretta. Sì, siamo rientrati in diretta.